Bienvenidos! E' nel juego de minecraft bonzossi bonzossi ah, benvenuti benvenuti e benvenute si, però eravate una sorpresa voi, perchè non vi levate, grazie benvenuti nella hardcore mangiamo un panino alla faccia di questi gnomi qua davanti eh, benvenuti sono tornato a casa e adesso casa è diversa perchè? eh, porca miseria, non ho fatto le cose le altre fans, ho chiuso solo una finestra eh, casa è diversa finestre, si, abbiamo finestre lo so, siete sorpresi posso dormire, per favore perchè ha iniziato a piovere proprio adesso gu 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 ma aspetta, quindi quando piove posso dormire all'infinito? Ah no ha smesso! Il miracolo! Roberto! Roberto ha smesso di piovere è tutto grazie a me che ho dormito eh, benvenuti ho fatto qualche miglioria alla casa per questo ci ho messo un po' di tempo eh, scusate ho fatto qualche miglioria simpatichina ho tolto un po' degli alberi qua attorno ma pochi quelli che mi servivano ovviamente scordandomi che dovevo fare due finestre almeno perchè per quelle di sopra ci si pensa dopo però almeno due le dovevo farle dove è il legname? eccolo qui facciamo gli stick, 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 stick ok ehm, si fanno così, 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 così le fans, se non sbaglio no, ho fatto i cancelli al contrario le fans perchè non mi ricordo mai la differenza tra fans e cancelli? ma io che ho fatto di male perchè l'hanno cambiata le fans? una volta si facevano tanto belline e tanto oneste parevano le fans mie quando si craftavano normale fatemi chiudere levatevi i posti non fatemi chiudere ecco, mo come fate a tornare con Roberto? mi fate spiegare la casa soprattutto che l'ho appena fatta allora casa normale modulare ecco con blocchi di pietra per simboleggiare nuove entrate è stata espansa una zona oh guinzoglio gratis oh fatemi pigliare pure questo siete pazzi è stata allargata una nuova zona depositata la maggior parte dei loots qui dentro e mi manca uno scalino dovevo scaldare ah no serve la legna per farmi lo scalino oppela ecco qua vedete? come io sono capace di fare cose scordandomi le cose che mi servono comunque vi faccio prima vedete se scendiamo sotto possiamo trovare una simpatica zona cucinino vedete? con le nostre fornacine piccine ci dovrei mettere pure delle fornacine normali sì ma mi piace la simmetria vorrei prima pareggia sto coso delle torce che sembrano storte ma perché qua sopra stanno gli slab come pavimento così non spannano i mostri e appunto dei mostri perché? qua sta una parete di barilozzi che ci portano tutte le cose vedete? drop e tutto però se apriamo sta porta ci ritroveremo di non buttare le torce direttamente con l'entrata in una miniera che ho scoperto per caso mentre facevo lo stanzino di sotto perché io stavo a fare lo stanzino no? e sentivo gli zombie e il commerciante si beveva la pozione di invisibilità e ho detto vabbè sarà perché piove sarà perché stanno qua intorno poi ho detto ma io li sento forte qua sotto e sopra non ci sta niente ho scavato così sentivo uno di qua scavato di qua e mi sono uscito qua sotto e ho fatto bene abbiamo pure la miniera gratis quindi cosa voler di più? non devo nemmeno scavare e niente questa è la casa aspetta fatemi depositare questo nella cassa centrale vedete che è tutta questa è drop dei mostri questa è legnami prendiamocene 1,2,3,4,5,6 per fare uno scalino dovrebbero essere qua sta il carbone qua stanno le cose buone tipo il ferro e l'oro qua sotto le ricchezze di qua di qua di qua di qua e qua stanno le cose delle piantine piantagioni come si chiamano forestine e bla 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 tutto il resto poi vedete ho fatto un bel pianino di sopra come finestra ho voluto usare le fence sti cosi spero che se ne vadano da casa mia sinceramente perché io non li vorrei tenere dentro grazie mille ecco probabilmente ce ne avevo già fatte di scale ma spero di non scoprirlo ecco qua si sale vedete com'è bellino abbiamo una visione molto bella del laghetto qua probabilmente ci metto il vetro qua sopra però non lo so non lo so dipende da come mi gira il cervelletto e qua probabilmente chiudo ma guarda quello dove è arrivato cioè Roberto ma sei pazzo io ti ho offerto la tosse no la sicurezza di casa mia oh questa mi sa che è buona c'era qualcosa che non mi voleva far parlare ho dovuto tossire un sacco comunque gli ho offerto la sicurezza di casa mia e lui ha deciso di uscire fuori e di scaricarmi i suoi lami Roberto questa me la pagherai comunque volevo fare un giretto qua sotto in miniera veloce veloce perché non l'ho fatto sinceramente e vorrei vedere che cosa ci sta visto che abbiamo pure l'inventario vuotino facciamoci un girettino ecco essendo un endermannino andiamo un po' eccolo qua sta qua sotto questo simpatichello ahahah enderman bello l'enderman lo potremmo far fuori sapete? ma vi faccio vedere un tips and tricks un trickerino per far fuori l'endermannino vedete? fate una stanzina così eh si lui fa i suoi versetti no? ma guarda quanto corre dai hai fatto vanifica la mia stanzina fammene fare un'altra qua smettila da andare sopra ma ti attacco qua ecco vi dato un colpettino lui vi segue perché se vi chiappa vi fa un sacco male in hardcore qua sotto lui non ci può venire ci avete un blocco di sicurezza guardate qua ecco qua l'enderman è fatto fuori della gustosa esperienza ne è cicciata oppla magnatevi i panini perché con una botta leva a tre cuori questo simpaticone con tutta armatura di ferro io lo vorrei specificare completa poi vediamo dove va a finire questo buco perché se è un buco che scende molto mmm ok sento degli scheletrini qua proviamo a fare una schiletta molto piccoletta vediamo un po' si può fare qua sotto mmm gioco mi stai ponendo un avversario difficile davanti c'ho dragoblaston e si ecco qua facciamo così la scalettina facciamo una bella scalettina adesso vero? ecco qua scalettina fattina creeperino lamerino mamma mia non mi ha fatto danno che sederino ed è la seconda volta che succede che mi scoppia un creeper a fianco perché che cosa ho di maledizione io addosso fatemi illumina qua attorno subito c'è del ferro molto gustoso ti si vedono gli occhietti al buio ragno mi fai paura ah ecco ma sto nella fase canterina del creeper che mi è scoppiato vicino stamattina ah che in realtà non è stamattina ma era adesso uff ok stiamo al sicuro credo fatemi danni illuminati eh qua scende gustosa sta caverna non è vero non è gustosa sta caverna fa schifo fatemi prendere un po' di carbone che mi devo fare altre torce qua ecco qua ecco qua mmm gustosine queste torcine piccoline eccole qua dove stanno i bastoni aha non mettermi i bastoni tra le ruote creeper tu mi sei esploso addosso volevi farmi fuori oggi non ci sei riuscito perché ho lo scudo del potere dell'amicizia ora facciamo fuori anche sto simpatico ma là c'è della luce non mi dica un grotto che ho già visto no è della lava questa luce vedete che bella forse è meglio se no andiamo subito di qua perché non ci voglio schiattà e anche perché di qua scende ancora di più oppla quindi approfittiamone vediamo un po' che cosa c'è qua mmm mmm qui non scende ma salisce un po' ciao pipistretto scusa se ti ho svegliato con questa luce ma tu ci dormi io ci schiatto perché a te i creeper non ti scoppiano dietro lì c'è uno zombie ignoriamola sta parte che tanto sale tanto sale non ci frega noi ci appropingueremo qua sotto perché metal mavio è forte un sicchio ancora non ce l'ho quindi metterò dei blocchetti così non chiudete mai la fonte cioè se volete si chiudetela però magari se ci sta un momento in cui state qua sotto e vi serve dell'acqua vicino ci avete questa acqua di fonte rompere i blocchi che ve la prendete senza che state a cercare chissà dove ecco qua vediamo un po' che delizie ci sono qua sotto oltre a uno zombie con una pala in mano che sembra molto maleducato lei signore con questa pala non mi si avvicini non mi si avvicini mantenga le distanze grazie è uno scheletrino salve ma lei mi fa molto molto oh mi sta e fa male pazzo poi c'è del ferro mmm bene bene mi piace che sto così eeeh la mia risorsa preferita l'oro serve a poco ma mi piace prenderlo e adesso non farò l'errore dei miei tentati 100 giorni in hardcore quindi non prenderò dell'oro e mi andrò a ficcare nella fortezza del nether dove stanno i piglin che fanno metal mavio ti do una spadata ti distruggo l'esistenza ma probabilmente nel nether ci andrò solo quando ci avrò l'armatura in diamante completo ecco qua magari tutta inciantata eh forse no forse no ma sapete che vi dico ma io so forte no nel nether dal nether mi servono poche cose eeeh si ma che è la festa degli zombie incravattati qua oh si ho tutta la corazza e mica me ne troppa un pezzo non che mi serve eh io ho la mia corazzina bellina enderman e krivern una combo fenomenale qua guarda io vi adoro bravo danneggia l'enderman e hai danneggiato anche me fatemi mangiare un panino eeeh forse da qua già ce la faccio eh ti colpisco eeeh che brutto è il coso come si chiama è il ferrovierino piccolino è il vabbè è la ferrovia avete capito su non mi fate eh continuare a a parlare la lingua spagnola che la storpio e basta poi magari sto video capiterà in Spagna una volta lo vedrà uno spagnolo e dirà ah com'è maleducato questo che storpia la mia lingua no signor spagnolo io non voglio storpiare la lingua di nessuno io rispetto tutte le lingue del mondo tutte le lingue perchè ogni giorno devono fare un combattimento coi denti per non mozzicarse quando si magna che è una cosa bruttissima ecco ora no se me dal mafio vostro fosse stato un po' furbo quell'acqua l'avrebbe presa con secchio avrebbe preso l'acqua con secchio e qua avrebbe già risolto la situa perchè invece di zompare nella lava poteva zompare nell'acqua però qua abbiamo tutta sta ghiaia no che se tipo facessi così ecco crolla tutto e non è crollato niente però possiamo fare un altro memino molto pericoloso questa cosa è molto ma molto ma molto pericolosa eh sappiatelo allora fatemi fa un muretto per sicurezza va tipo così ecco così lo faccio no togli questo togli questo meglio così c'è la lava là sotto e a noi la lava fa schifo noi facciamo così zuc e ciocchete zuc e ciocchete zuc e ciocchete e adesso quella lava si dov'è no perchè più in alto e zuc ecco qua adesso quella lava è chiusa e comunque i simpatici mostri ci bazzicano no perchè io li ho praticamente aiutati gli ho salvato la l'esistenza perchè io gli affari miei non me li faccio mai ma io dovevo zompare in quella lava proprio ultracombattente fortissimo e me ne dovevo fregare di tutte le conseguenze se ci morivo non faceva niente eh mamma mia invece no devo andare là solo perchè ho una vita sola ma pfff ma io tutti i mondi me li faccio in modalità creativa non si rischia niente non si muore ma sta lava non si è chiusa ma sta lava non si è chiusa se c'è quello quello scheletro che ci bazzica in mezzo ma che sta succedendo qua oh oh no 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 scusate 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 ma eh 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 qui c'è bisogno di un ripensamento un attimo al volo eh se io mettessi questa ma vedi ma si è storta la lava ma come funziona sta cosa eh cioè la lava cambia fonte? no vai via cammina vai via cammina dai ma quanta lava è? su voglio solo scendere la e mi ha dato la flint ma guarda tu alla grave lo guarda tu quante cose devono succedere già mi sono perso eh io ve lo dico già mi sono perso ma non si chiude è inchiudibile quella cosa ecco qua questa dovrebbe sistemare dai 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 non ho la minima idea di che eh? mmmm ma questo già mi tira le frecce ma che t'ho fatto? io vorrei sapere ai mob di minecraft no? steve che cosa gli ha fatto? perchè appena arrivi qua ti iniziano tutti a tira frecce esplode infatti ecco qua tiè ma io che v'ho fatto? no amico creepers no amico oh ma la sta un cd musicale quello deve essere mio io sono un ambito collezionista di cd musicali sono i miei preferiti ma chi mi sta con qui? questo? ah ti è beccato la freccia tua va ah pure l'amichetto stava e no porca miseria dov'è la mia scaletta? io me la rifaccio da dove è arrivato quel coso? io adesso vorrei sapere da dove è arrivato quel mister creepypaster che qua non ci sta via per farlo arrivare qua non c'è modo come è arrivato? non c'è nessun ponte i mob sto tipo di ponte qua ah no lo passa lo passa ok no colpa mia poteva esistere però io in tutto questo il cd musicale lo vorrei lo stesso signor creepers è autografato da lei? e non mi tira le frecce su e io sto a fare il lavoro mio e dai su basta oh non potete di meglio vai combattete scoppiate fate quello che vi pare voilà grazie mister creepers per averci risolto la situazione ora mettiamo una scaletta aspetta ma ha distrutto il cd musical mister creepers lei è un infamello però eh ora devo richiudere tutta sta roba mannaggia a te mister creepers mister creeperino eh sei un malandrino guarda qua guarda qua guarda che ha combinato porca miseria mister creepers ahhh basta dopo questa eh io ho mi so assicurato dei rischi li ho corsi per fortuna per fortuna non mi hanno schiattato a me ma per il momento io ecco io ho dato ecco e mi sento a posto con la coscienza adesso me ne torno a casa me ne vado a ficcare nel letto mi vado a fare una bella dormita e qua e a chi mi sveglia ecco qua salto di qua salgo sopra torno a casa per conto mio dove non ci sta nessuno che mi è sparato in faccia anzi vi dirò di più mo che salgo sicuramente è notte è notte il mondo sarà pieno di mostri e io mi sarò scordato la cosa la porta aperta essendomi scordato la porta aperta saranno entrati i 18 gripper a casa e saranno esplosi sui miei poveri lami adottati vediamo un po' è notte sicuro guarda qua che avevo detto notte però dormo la porta aperta che avevo detto mamma mia oh mamma non lo fate mai non dormite mai non lasciate mai sta porta aperta oh e con questa morale vi saluto arrivederci